nasce a portici il polo dell'educazione per giovani da 0 a 6 anni la nuova sede della scuola il ciliegio a ridosso di via libertà e dell'omonima stazione della vesuviana ospita l'asilo nido e la scuola dell'infazia in spazi appositamente riqualificati in queste settimane particolare attenzione è stata prestata all'allestimento di tutti i locali elemento essenziale nel processo di educazione e di formazione dei giovanissimi che potranno vivere moltiplici esperienze nei diversi atelier dalla musica al digitale dai sapori alla scienza sono gli spazi di esplorazione e di ricerca dedicati anche a genitori e nonni sempre accompagnati e sostenuti da educatori e insegnanti il ciliegio che opera sin dal 1994 sul territorio napoletano propone una didattica innovativa e sempre più accogliente nella nuova sede infatti si introducono le aule aperte un nuovo modo di intendere di fare scuola che supera il tradizionale concetto di sezione e lezione inoltre il polo dell'educazione di portici punta su continui e proficui momenti di interazione tra i giovanissimi e tra questi e gli adulti è nata per questo ad esempio la grande piazza a primo piano luogo ideale nel quale si sperimentano momenti di crescita e confronto grazie alle esperienze con il mondo digitale e con la natura insieme agli esperti di scienze inedita esperienze anche nella sala da pranzo dove le bambine e i bambini saranno i protagonisti gli esperimenti e occasioni di gioco con tutti i propri sensi in più per rendere le lezioni sempre più interessanti e stimolanti gli spazi sono dotati di computer tablet lavagne interattive e smart tv oltre a tantissimi giochi selezionati dagli educatori esperti ciao 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 ciao